Gentili telespettatori, buona giornata. Putin, la Russia hanno deciso, ma poi vedremo se possono decidere, che il gas si deve pagare in rubli, niente euro, dollaro o altre manette dei paesi ostili, si deve pagare in rubli. Il gas nei contratti, c'è scritto nei contratti che si paga in dollari, in euro, questi sono i contratti stipulati, ad esempio la benzina si paga tutta in dollari, sono degli accordi internazionali, qui sono dei contratti dove l'Europa eccetera eccetera pagano in euro e altri in dollari. Cosa succede? Che il contratto dice una cosa e la Russia dice beh adesso invece mi pagate in rubli. Perché mi pagate in rubli? Pagare in rubli significa rafforzare la moneta russa. È una sorta, è la legge della domanda, dell'offerta. Se voi pagate in rubli cosa vuol dire? Vuol dire che date i vostri euro, li dovete cambiare in rubli e poi il pagamento arriva in rubli. Quindi comprate rubli per pagare. Il fatto di comprare sul mercato una moneta la rafforza, perché quando voi la comprate la togliete dal mercato e si rafforza la moneta. Pertanto il mi pagate in rubli può rafforzare la moneta russa e se i paesi pagano in rubli aggirano le sanzioni alla Russia. Intanto Francesco Giavazzi, consigliere economico del governo, dice dovremo pagare il gas russo in euro, non in rubli. Il leader lusso ha infatti annunciato che Mosca non accetterà più le valute dei paesi ostili. L'unica moneta accettata per il pagamento della modella del gas sarà il rublo. Putin ha spiegato che il congelamento degli asset russi legato alle sanzioni occidentali ha distrutto la fiducia di Mosca. Il leader del Kremlin ha aggiunto che la novità riguarda soltanto la valuta di pagamento e non il contenuto dei contratti e quindi i volumi di gas consegnato, che dunque resterà invariato. Nel dettaglio Putin ha ordinato al governo di emanare una direttiva che obblighi il colosso russo del gas Gazprom a convertire in rubli i contratti di fornitura con i paesi che hanno attivato sanzioni contro Mosca. Voi sapete che non si può unilateralmente cambiare un contratto? Non si può, sennò il contratto è nullo per un vizio. Il gas all'Europa serve, ai russi serve il denaro, uno cambia le condizioni e l'altro dice e io non ti compro più il gas, però non te lo posso non comprare perché sennò che noi faccio? È come un cane che si morde la coda. Vedremo adesso che cosa succederà. Tra questi c'è anche l'Italia che deve pagare il gas. Paga circa tra gli 800 e il miliardo di euro al giorno di gas. Ho deciso di attuare, dice Putin, una serie di misure per trasferire il pagamento delle nostre forniture di gas ai paesi ostili in rubli russi. Putin ha poi ordinato che i cambiamenti vengano messi in pratica nel più breve tempo possibile. Serviranno però diversi giorni perché Gazprom possa realizzare tecnicamente le modifiche richieste dal Cremlino. La conversione dei contratti del gas in rubli, decisa da Mosca, è pensata per ridare forza alla moneta russa, crollata ultimamente. Dopo l'annuncio di Putin, il rublo ha effettivamente recuperato valore alla borsa di Mosca e ad esempio il cambio tra euro e rublo era rapidamente passato dai 144 ai 112 107 e il rapporto dollaro rublo è sceso a 103 97,75. E così il prezzo del gas in Europa registrava un ulteriore balzo del 34%. Nel discorso dei funzionari Putin ha nuovamente ribadito l'illegalità delle sanzioni occidentali. Sanzioni dice che comprendono il congelamento delle riserve valutarie estere della banca centrale russa. Putin avrebbe infatti aggiunto alcuni paesi occidentali hanno preso decisioni illegittime sul congelamento dei beni russi. Perché quello che sta facendo lui cos'è legittimo? Insomma, un po' curiosa come dire agli altri che stanno facendo delle cose illegittime. Le reazioni all'annuncio di Putin sono queste. L'economista Giavazzi, dopo aver ribadito che il governo non ha ancora preso alcuna decisione in merito, ha aggiunto che farsi pagare in rubli sarebbe un modo per aggirare le sanzioni. Quindi penso che continueranno a pagare in euro. Così i rapporti tra la Russia e l'Unione Europea rischiano di peggiorare, in vista anche delle nuove sanzioni in discussione a Bruxelles, dove sono previsti i vertici della Nato, del G7 e dell'Unione Europea. Una delle possibilità è proprio lo stop delle importazioni di petrolio e gas russo, come già deciso dagli Stati Uniti. Però la linea italiana è diversa, dice Giancarlo Giorgetti, ministro leghista dello sviluppo economico. Dice così, è una corsa da parte dell'Europa a rendersi quanto più veleciamente possibile emancipata dal gas russo. Se riusciamo emanciparsi, è finita per Putin, però ci vuole tempo. Sulla questione dei pagamenti dalla Germania è arrivata una risposta sconcertata. È intervenuto anche il ministro dell'economia tedesco, secondo cui la pretesa di Putin di ricevere transazioni in rubli rappresenta una violazione del contratto. Ora discuteremo con i nostri partner europei su come reagire, ha concluso. Vedremo anche questa diatriba sui pagamenti del gas, come andrà avanti, come finirà, come si evolverà. Intanto io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. C'è anche poi l'altro canale, Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di politica, video di notizie, di fai-da-te. Poi questi video di due canali di YouTube vengono condivisi poi nella pagina Facebook che si chiama Tele Italia, dove se vi sono interessati li potete a vostra volta condividere sui vostri profili. Grazie nuovamente per avermi ascoltato, buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto.